Alle 22.30 del 29 ottobre 1969, dalla stanza 3420 dell'Università della California a Los Angeles allo Stanford Research Institute, Leonard Kleinrock e il suo studente inviano il primo messaggio tra computer collegati alla stessa rete, ARPANET, che può essere considerata la progenitrice di Internet. ARPANET venne realizzata dal Ministero della Difesa degli Stati Uniti e al suo sviluppo ha collaborato proprio l'informatico Leonard Kleinrock. Dal sistema di computer della UCLA viene inviato un messaggio che contiene solo una parola, LOGIN. Il messaggio arriva al computer ricevente solamente con una L e una O e poi il sistema si blocca. Il primo messaggio in rete della storia è semplicemente il monosillabo LO. Solo un'ora più tardi, sistemato l'errore, il messaggio riesce ad arrivare intero. Due anni dopo, nel 1971, sempre grazie alla rete ARPANET, è Raymond Samuel Tomlinson a mandare la prima mail tra due computer a un metro uno dall'altro. Tomlinson usa la chiocciola per separare il nome dell'utente da quello del computer e scrive qualcosa di poca importanza, tanto è vero che lui stesso ammette di essersene proprio dimenticato.